Sistemato in meno di due anni è diventato un punto di riferimento fondamentale per il comune di Fano e per l'intera regione. L'area formativa del Codma di Rosciano a Fano verrà inaugurata alla fine di maggio grazie a un bando della regione vinto nel 2019. Gli uomini del Cibi Club Mattei, guidati da Saverio Livi, hanno messo anime e corpo, giorno e notte, per ristrutturare l'edificio. Dieci volontari all'opera ogni giorno. Erano tanti anni che non veniva più utilizzato, quindi aveva dell'infiltrazione d'acqua, aveva dei grossi problemi. Piano piano all'interno del nostro volontariato, della nostra associazione, ci sono un po' tutte le maestranze, dai muratori, in pratica l'idraulico, l'imbianchino. Piano piano durante la pandemia dello scorso anno, con le dovute distanze, siamo riusciti in pratica a fare quei lavori più importanti. Tra gli interventi di tinteggiatura, di rifacimento del tetto e degli interni, è stato un duro lavoro, ci racconta il Presidente. La decisione poi è stata quella di adibirla non a sede dell'associazione, che invece è rimasta a pochi metri, sempre nell'area del Codma, bensì ad area formativa per tutto il mondo di protezione civile, non solo a livello locale, ma anche nazionale. Qui a livello nazionale si fanno dei training adibiti alla segreteria, all'unità di crisi, alla cucina, alla logistica. Raggruppiamo spesso e volentieri, minimo una volta all'anno, un paio di centinaia di persone, quelle che si devono formare, anche perché l'area fuori, lo spazio verde, come vedete, si presta e quindi nell'arco di 4-5 giorni riusciamo a montare un campo completo, con tutto quello che serve, e rismontarlo. Per i volontari, prosegue Livi, sono fondamentali sia la formazione che l'esercitazione. Oltre a questo, sono presenti degli uffici che si prestano a diverse attività. Si è pensato di mettere sul tetto le dovute possibilità di montare l'antenna per tutti gli attori di protezione civile. In pratica ci sono nove postazioni in cui, se succede una calamità, ognuno può collegare la propria radio. Mi riferisco a Polizia, Carabinieri, Finanza, hanno la propria calata di antenne. Quindi, qualora la Regione Marche dovesse scegliere questo spazio, ha le postazioni giuste per diventare un com. Si tratta del centro operativo misto, che raggruppa più comuni della vallata. In questa struttura ci sono ben 41 postazioni di lavoro con internet e telefono per ogni scrivania, perfetto per gestire situazioni critiche o emergenze. Questi spazi, al momento, sono stati messi a disposizione per eventuali e ulteriori punti vaccinali. L'area vasta ha già fatto un sopralluogo su questi uffici perché non c'è bisogno neanche dei tre mezzi, cioè un corridoio. Il classico corridoio, come andavano le case una volta, è un corridoio centrale, quattro uffici a destra e quattro uffici a sinistra, quindi si presta bene per l'accettazione e poi la vaccinazione. Questi 8 uffici sfociano prima i bagni e poi all'interno della grande sala, che all'interno ci sono quattro sale, una da 40, una da 50 e una da 160 posti, con una sala a riunione per le videoconferenze. Sbuca in cima questa sala da 160 posti, quindi non si incrociano neanche con chi attualmente il vaccino lo fa al piano terra. Quindi si presta molto bene. Non so se questo si realizzerà perché dipende molto dai vaccini.